Buongiorno e bentrovate a tutte e tutti e benvenuti a Torino. La conclusione di questo progetto di Esponmetro e i risultati che verranno presentati metteranno certamente ancora più in evidenza l'importanza delle città metropolitane, fattori di coesione e di sviluppo a livello comunitario e certamente l'unità sistemica di riferimento territoriale alla quale guardare anche nella futura programmazione europea. E' proprio nelle città metropolitane che si sviluppano i processi sociali, demografici e anche quelli industriali più all'avanguardia, più innovativi. Ed è per questo che occorrerà nel prossimo futuro ridare, anzi dare forza e centralità proprio alle città metropolitane. Buon lavoro a tutte e a tutti voi.